I carabinieri della compagna di Partinico lo scorso d'agosto hanno seguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP Fabrizio Anfuso e il Tribunale Ordinario di Palermo nei confronti di Gioacchino Bono di 34 anni e Lorenzo Orrigano di 37, entrambi di Partinico. I due cugini sono ritenuti responsabili dell'aggressione dello scorso 26 luglio nei confronti del giovane di 19 anni senegalese Khalifa Dieng, ospite di un centro di accoglienza. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere. Il giovane senegalese girava in bicicletta per le vie di Partinico quando è stato avvicinato da un uomo, poi da due, che lo hanno prima insultato e poi spintonato e preso a schiaffi e pugni. Khalifa non ha reagito, ma i suoi aggressori, Bono e Errigano, hanno continuato a pestarlo sempre più violentemente. Si sono avvicinate altre persone, attorno ai tre qualcuno ha tentato di fermare i due, ma senza alcun risultato. Intanto la rissa si è spostata in centro strada e gli automobilisti sono rimasti attoniti a guardare quanto stava accadendo. Per qualche breve stante i due aggressori sono stati allontanati alla strada e dal giovane, ma subito è ripreso il pestaggio fino a quando Khalifa Dieng ha represo la sua bici ed è andato via. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, dopo l'aggressione ha presentato la denuncia ai carabinieri. Non ho reagito perché non alzo le mani, ha raccontato il senegalese, mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani.